Siamo nel vivo della materia, come ho detto prima abbiamo cercato di alleggerire l'argomento e anziché parlare esattamente, titolare questo spazio dedicato all'appuntamento col medico esattamente tumore al colon, noi abbiamo preferito malattie al colon. Purtroppo invece siamo qui per ben altro, perché lei ha scelto questo argomento? Sì, il motivo è molto semplice, io non volevo diffondere il panico nella gente, ma la gente sa benissimo perché ha avuto casi in famiglia o nei parenti o nella gente che conosce che il cancro del colon è un problema. Io ho scelto questa malattia perché vorrei che la gente sapesse che la malattia è prevenibile, non ha un esito sempre in fausto e l'esito positivo, cioè la guarigione, si ha, tanto più precoce è la diagnosi. Quindi è malattia cattiva quando raggiunge gli stadi più avanzati e tutti hanno in mente il problema della colostomia, del sacchetto, di questa grande limitazione alla libertà dell'individuo e invece la gente deve sapere che la malattia può essere prevenuta. Perché? Perché non è un tumore che nasce maligno dall'inizio, è un tumore che ha una fase, diciamo così, è un'evoluzione. Degnera nel tempo, potremmo dire. Parte da un tumore benigno, volgarmente lo possiamo chiamare polipo, dal punto di vista scientifico diciamo che si chiama adenoma e nel corso di molti mesi o anche di alcuni anni questo adenoma, tumore benigno, si può trasformare in adenocarcinoma con l'evoluzione poi negativa verso gli stadi terminali.